Bene Francesco, naturalmente abbiamo rassegna stampa e materiale a uffa, no? Si Però se mi permetti Si Si, lo so che mi lo permetti Tranquillo, tranquillo Vieni, vieni, vieni tranquillo Ciao Non c'è problema, sta arrivando il nostro amico E allora, il discorso che io volevo partire con la trasmissione, Francesco introducendo la trasmissione Volevo farlo, ciao Volevo farlo prendendo in mano il canzoniere Eddico Tu che tu conosci naturalmente Si, ma non so se la Volus, non ho fatto tempo a leggere Forse non è la Volus, perché la Volus è un attimino più striminzita Perciò questo è un altro testo che non conosco Allora, il canzoniere Eddico praticamente sono i più antichi canti islandesi Che formano la base della religione Asatru Abbiamo due libri fondamentali Uno è questo, il canzoniere Eddico E l'altro abbiamo l'Edda di Snorri L'Edda di Snorri Che è stata praticamente scritta da un cattolico, da un cristiano Che ha ripreso gli ultimi racconti degli Asatru E li ha scritti a modo suo, cioè quella sua visione della vita E questo canzoniere Eddico Che praticamente sono gli ultimi testi C'è l'ultima sistemazione della religione Asatru Praticamente la religione vichinga, la religione di Odino Tanto per essere chiari E l'ultima sistemazione prima dell'avvento del cristiano Cioè già praticamente in periodo cristiano Cioè praticamente i cantastorie, gli ultimi cantastorie Hanno preso la loro ultima versione e l'hanno messa per iscritto Naturalmente questa versione, questi canti del canzoniere Eddico Sono infinitamente più antichi Cioè perché fanno parte proprio della gente del nord E allora per introdurre la trasmissione E' abbastanza complesso leggersi sto libro Anche perché usa molti nomi nordici E' difficile da seguire perché anche l'uso dei nomi Delle popolazioni nordiche Era un uso del nome magico Cioè nel senso che una persona poteva avere anche dieci nomi E infatti gli dei hanno molti nomi con cui si presentano le varie situazioni Però non è di questo che io volevo parlare Di tutti questi canti Quello che è più vicino a cose che riusciamo a comprendere anche noi Cioè abbastanza immediato E' la canzone dell'Eccelso La canzone dell'Eccelso non è altro che una canzone Che dà quelle che sono le regole morali Le regole civili alle persone Cioè come comportarsi in una certa situazione Una certa situazione di vita Ora Francesco io direi questo Io leggerei una dozzina di queste frasi E poi da là partiamo per collegarci con la trasmissione Perché in realtà questi principi morali Principi comportamentali Sono estremamente importanti anche da capire Che cos'è il paganesimo Ma non tanto il paganesimo come noi lo diciamo oggi Ma come era il paganesimo 1500 anni fa E proprio per riuscire a vedere anche l'analogia Di quello che hanno raccontato i cristiani degli antichi Mi sembra che sia anche abbastanza utile No? Che cosa dici Francesco? Allora io ve ne leggerei E fate attenzione C'è naturalmente sono dei canti ritmici Però io ve lo leggo naturalmente in prosa Perdonatemi la pronuncia delle parole islandesi Ho qualche piccolo problema Però vedrete che la frase vi è molto chiara E dalla canzone dell'Eccelso Parto dal paragrafo 125 Attenzione chi parla è Odino Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Non fare il ciabattino Nell'armaiolo Se non per te stesso Se la scarpa è malfatta O se l'asta è rotta Allora ti augurano Il malanno Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Dovunque hai ricevuto un dono Un danno Consideralo danno E non dar pace Ai tuoi nemici Ti suggerisco Lodfafnir Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Piacere dal male Non trarre mai E preferisci il bene Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Non guarderai verso l'alto Nel mezzo della mischia Simile a furie Si fanno i figli Degli uomini Così non ti stregheranno Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Se a tuo favore Vuoi una buona femmina Persuadere A dolce intimità E trarne piacere Fai belle promesse E traducile in realtà Nessuno soffre A ricevere del bene Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Ad essere prudente Ti esorto Ma non troppo prudente Prudentissimo Sì con la birra E con la donna Di un altro E terza cosa Stai attento Che i ladri Non ti giochino Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Con scherno e derisione Non ricevere mai Né ospite Né viandante Spesso Ben poco sa Chi siede in casa Di che razza Siano quelli che vengono Nessuno è così buono Da non aver pecca Né cattivo Tanto Da non servire a qualcosa Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli L'oratore Dai capelli grigi Non deridere mai Quel che i vecchi dicono Spesso è buona cosa Spesso da un'altra Raglinzito Parole sensate Provengono Che è appeso Insieme a pelli E ciondola Con pezzi di cuoio Ed ondola Con cagli Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Non far cattiva accoglienza A un ospite Non metterlo alla porta Mostrati ben disposto Con i miseri Forte la spranga Che deve scorrere Per aprire a tutti Regala un anello O ti sarà augurato Un qualche malanno Nelle membra Regala un anello In questo caso Significa Fai il tuo dono All'umanità Ti suggerisco Lodfafnir Accetta il suggerimento Utile ne trarrai Se tu l'accetti Bene ti porterà Se tu l'accogli Dovunque tu beva birra Invoca la forza Della terra Che la terra Porta via la birra E il fuoco Invece La malattia La quercia Il testes Il tenesmo La spiga Gli incantesimi Il sambuco Le liti familiari La luna Invoca In caso D'ira La lume Le malattie Da morsi E le rune La sfortuna La terra Porta via Il flusso Maligno Lo so Che sono stato Appeso Dice Odino Al tronco Un sorso Un sorso Presi Di quel prezioso Nettere A tinto Da Oder Erich E questo È quello Che vi leggo Fino adesso In pratica Che cos'è E questo canzone Dell'eccesso È la canzone Della vita Cosa un uomo Praticamente Deve fare Per rapportarsi Col mondo In cui noi viviamo Ora voi Prendete questo Che è stato scritto 1200 anni fa 1300 anni fa E confrontatelo Un poco In principi cattolici Io ve lo consiglio È il canzoniere Eddico Eddito Da Garzanti Costo 9 euro e 50 Sì ma pare che Diciamo La letteratura Nordica Io Avrei qualche Riserva Su alcuni termini Della traduzione Però logicamente Io non voglio fare Il puristà Di conseguenza Perché Dico Pur avendo io Una lettura Giovanica Dell'era di Snorri E di altre opere Ad esempio Che hanno Quella mitologia Appunto Del nord Alcuni termini Sarebbero Da tradurre Tipo L'utile Come Giovevole O benefico Perché I termini Utile Rientrano Un attimino In una visione Più moderna Quasi Ottocentesca Difatti Alcuni termini Nelle traduzioni Vengono utilizzati Non perché Sono assonanza Con l'antico Ma perché La nostra cultura È abituata A ragionare In questa maniera Certo Ma questo vale Un po' per tutto Sì 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 Per tutte le traduzioni Già Sombart Nell'Ottocento Parlando di certi temi Diceva Ad esempio La nostra cultura È contaminata Dal discorso utilitaristico Dal discorso del mercato Dal discorso del denaro Infatti diceva Io non sono arrabbiato Con te O te ne pentirai Di quello che farai Ma la pagherai cara E che implicava Già anche una connessione Con certi termini Di tipo mercantile Penso anche questa traduzione Da quello che io ho letto Ha delle pecche Però è importante Perché dimostra Una cosa ben semplice Che Odino Pur essendo al vertice Del panteo Non è certo quello che impone Dice Io te ne consiglio Ti può essere benevole Ti può essere d'aiuto Questo non è la mia posizione Sei tu che sceglierai Di fare questo Nell'intero canzoniere edico La posizione di Odino È la posizione Degli Asi È la posizione Di un guerriero Cioè Un guerriero estremamente potente No? Cioè un guerriero Cosmologico Cioè che Valle ne cose Però è un guerriero Sì È colui che ricerca La conoscenza Che ricerca il sapere E che Ricerca anche Il potere Partecipando Dalle vicissitudini Degli uomini Che non è molto diverso Da quello che è in Grecia Cambiano i termini Cambiano le modalità Cambiano le rappresentazioni Però in realtà È la stessa visione Cioè La visione islandese Perché questi sono islandesi No? Infatti I testi I manoscritti originali Furono presi dai danesi Sì E poi furono restituiti I danesi all'Islanda In buona parte Insomma Per cui Sono testi Che hanno una loro funzione Però Sono legati a quello che è Il discorso greco Cioè il discorso anche Di Roma antica Cioè In pratica Esiste una continuità In tutte quelle che sono Le antiche religioni Se ricercoliamo Di iperborei Significa Che sei la luce Che viene dal nord Un Apollo Che scende Come i signi Dal nord Cioè Esiste questo legame Iperborei Sono quelli che sono scesi Dalla Tule Mitica Cioè sono scesi Verso il basso Non esiste questa separazione Questa linea di confine Non esiste un muro Che possa separare La cultura mediterranea Da quella del nord No Anche perché non esiste Proprio una separazione Mi sembra che Dumezzillo Abbiamo anche dimostrato Cioè L'unione della cultura celta Questi sono islandesi Per cui Però Tutto sommato Fa parte della cultura celta Anche questi Insomma Con tutte le loro Reminescenze Sono un po' diversi I celti Lo so Non mi metto a fare Però Esatto Per riuscire Anche i germani Sono diversi Cioè Chiaramente Se dopo gli dici Non so I nostri amici tedeschi Non va del genere Siamo trovati i capelli Però È chiaro che Quando dopo vai a scavare Il principio Cioè la rappresentazione Del principio Cioè Cosa Che è uguale Cioè Quella che era Per esempio Le battaglie Dei benandanti Non era un altro Che una riproduzione Delle battaglie Delle battaglie Di Odino Delle battaglie Tu pensi Già il concetto Di Ragnarok In cui Gli dèi si scontreranno Sai Tutti gli asi E i vani C'è lo scontro finale In cui Gli dèi si annienteranno Per distruggere Gli esseri malevoli In realtà Saperanno che Avranno dei figli Che porteranno Verso una nuova età Dell'oro Sanno che Il Ragnarok Lo scontro degli dèi Non è definitivo Però Ci sarà la loro morte Ci sarà un'epoca Ben diversa Cioè Quando sarà l'assalto Sai All'arcobaleno Sono le divinità Che proteggeranno Questo ponte Dall'assalto Però molte di queste divinità Saranno destinate A scontrarsi con Loki Con il lupo Fenir Saranno destinate Sicuramente Alla loro morte La loro morte Però Permetterà anche La distruzione Degli assaldatori Del nemico E che non ho Epoca Nasca La battaglia di Ragnarok È fondamentale Cioè Ferire il lupo Si è ingurgitato Il sole Bisogna farglielo vomitare Questo Non ci piove sopra Però Quello che era importante Per me Far capire Erano questi principi Questi principi Di ordine quotidiano Cioè Di comportamento quotidiano Che hanno Un grande valore Cioè Hanno il valore Di Identificare Proprio Una cultura Una civiltà Proprio da quello che è Il rapporto morale Con l'uomo Cioè Con il singolo uomo All'interno della società Cioè Il rapporto con l'ospite Cioè L'ospite Da non deridere Perché tu non sai Chi sia quello Capisci Per cui E deve avere attenzione Anche rispetto allo sconosciuto Poi il fatto Che non esiste Nessuna persona Abbastanza malvagia Che non ti dia niente No? O una persona Abbastanza buona Senza pecche No? Cioè ti dà Uno stacco Dalla visione Della vita Oppure se vuoi avere Una donna Devi comportarla In un certo modo Cioè È fondamentale Anche per i rapporti Che ci sono All'interno Di una struttura sociale Di una struttura morale Cioè Che non ti consente Di fare Tutta una serie Di Quello che i cristiani Immaginano Le loro perversioni C'è la proiezione Delle loro perversioni Che hanno Nella testa Capisci E questo è importantissimo Perché questo tipo Di canzoni In realtà Non avendo una cultura Scritta Se non attraverso Le rune Ma le rune Erano Molto limitate Cioè Era un uso magico Che se ne faceva Più che un uso Di scrittura Lì è sempre controverso Le rune Sono qualcosa Che ne hanno letto Di tutte le maniere Però Sono sempre Una segnatura sacra Come a tutto La scrittura Prima dei monoteisti Era sacra Cioè Le parole Non sacre Esistevano popolazioni Che avevano Due lingue Una lingua Che avevano Profana E una sacra Però E' importante Sapere Che esistono Sono esistite Queste cose Cioè Per niente L'Islanda Non le ha voluti Indietro Questi testi Ok Facevano parte Del loro essere uomini Cioè Identifichi le popolazioni Antiche Non nel brutto Come scrive Honorio Nella sua storia Storia Contro i pagani E poi arrivano I cristiani A portare la civiltà Ma esistevano civiltà Che i cristiani L'hanno distrutto Cioè Anche strutture morali Cioè Noi Adesso Andando anche Nell'attualità Adesso Ci troviamo A vedere Cosa sta facendo La chiesa cattolica All'interno Della nostra società E l'attacco L'attacco L'aborto L'attacco a Darwin Al povero Darwin Beh no La chiesa cattolica Diciamo Sono più protestante Che per l'attacco a Darwin Perché Per i cristiani Cattolici Darwin È compatibile Con la creazione Diciamo che È più un attacco protestante Noi Comunque Stiamo assistendo A tutta una Tutto un venire meno Di quello che è Il diritto del soggetto Cioè Il diritto dell'individuo All'interno del sistema sociale In cui viviamo Cioè L'individuo Che viene posseduto Che viene venduto E comperato E che si trova ingabbiato Cioè Questi processi qua Di cui abbiamo parlato prima No Il processo a tosti Degli sti processi Danno proprio una Ingabbiatura A quelle che sono Le rabbie Dei soggetti No Le rabbie degli individui Davanti a un crocefisso Arrabbiatura Che la Francia Invece ha risolto In un ben altro modo Cioè Semplicemente Gli allevati Dicendo Ci sono i principi Della Francia Sì Vuoi chiediamo Un piccolo esempio Claudio Allora Sapete che Una caratteristica Dei monoteisti È sempre quella Della violenza Della imposizione Soprattutto Sui bambini